Il nostro guardiano che ieri è venuto verso le 5 con il motocarro a transitare sulla strada, tanti si sapeva già, ha trovato tutte queste buche ancora ampliate dal signor di vicino. E' andato là, ha preso la zappa e stava un po' sistemando, almeno per attutire un po' i colpi. Nasce tutto dal tentativo di colmare alcune buche in un viale comune e la goccia che ha fatto traboccare un vaso colmo di discussioni, reciproche accuse e minacce andate avanti per anni e che ora Michele Acquaviva, papa di Antonio, titolare del ristorante e pasticceria Glutoneria al Castello, a poche centinaia di metri da Castel del Monte, ha deciso di denunciare. La villa degli Acquaviva è in viale posta di grotte dove si svolge l'attività ricettiva, confine infatti con un'attività privata. A legare i due terreni c'è un viale non asfaltato, deteriorato dal tempo, con buche e sconnessioni che non agevolano il passaggio delle auto dirette al ristorante, una situazione alla quale i titolari dell'attività hanno deciso di porre rimedio in maniera artigianale, con zappa e brecciolino, un provvedimento che spiegano nel pomeriggio del 22 novembre ha generato l'ira del vicino. Sento di gridare, mi affaccio e vedo animatamente il vicino con lui, che stavano prima verbalmente aggrediti, poi mi sono avvicinati e ci sono aggrediti tutti e due. Prima con le minacce, poi anche con le mani. Mi hanno preso il maglione, mi stavano dare le botte, poi ho detto io, togli le mani di dosso, due schiaffi tutti insieme, e mi chiedono, non ho visto che noi non andiamo, e loro hanno lasciato tutto la partita dal collo. Il resto è sotto lo sguardo delle telecamere, occhiali infranti, necessità di ricorrere alle cure mediche, tanta paura e la mancanza di serenità nel portare avanti un'attività commerciale che sostiene la famiglia anche e soprattutto per i trascorsi tra le parti, una storia denunciata alle telecamere e poi anche al commissariato di Andrea. Questa è una storia che si ripeta ancora una volta, insomma, una lotta continua. Siamo arrivati all'esasperazione, ormai non ce la facciamo più. La causa dei dissapori per la famiglia Acquaviva sta nel fatto che l'arrivo di glutonerine nelle campagne andriesi circa otto anni fa abbia minato la serena quotidianità del vicino, con picchi di tensione altissimi come quello registrato il 25 ottobre 2018 quando era stata presentata un'altra denuncia agli agenti di polizia, seguita al posizionamento di grossi massi di pietra sul viale che conduce al ristorante, si legge nelle carte, è passata dall'atteggiamento minatorio del vicino con una frase messa nero su bianco davanti alle forze dell'ordine. Il primo titolare che oggi vedo passare di qui lo ammazzo. Lui ci ha minacciato sia a me che a mio figlio che ha detto al guardiano che ci deve far fuori, tutto qua, questo era l'episodio eclatante che lui è stato denunciato, non sappiamo che fine ha fatto questa denuncia. La richiesta presentata alla polizia è di diffidare il vicino dal sostare e vivere vicino al loro ristorante. Le indagini passeranno dall'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della villa, ma la sensazione è che la pazienza della famiglia Acquaviva sia davvero finita. Hanno preso nota dall'accaduto e ora tocca a noi fare i primi passi. Siete comunque esasperati anche abbastanza visibilmente nel parlarne? Ma è chiaro, questa è una storia che è infinita, non finisce mai. Dobbiamo stare ancora in queste condizioni a vivere su chi va là, ma stiamo a scherzare, fino a 2020.